Ma quanto passerà che vi devo killar Per credere che esiste ancora i killer nella vita vostra Nabetti number one Quando due si killano Tutti gli altri scappano Rincorniamoli così gli piacerà Poi arriva l'immortalità I modder sono qua e noi le segnaliamo Ma alle aziende non gli interessa Dei suoi giocatori Quindi bloccano i trasferimenti dati E Nico Livorno interverrà Per far rimanere i trasferimenti dati Per sempre aperti